Stasera inizia il festival, è vero, anche quest'anno ci sarà. Anche quest'anno alziamo il sipario della tredicesima edizione del Festival Nazionale del Teatro, siamo pronti, le persone cominciano a prendere posto. È un anno veramente importante in cui si ritorna e si fa un passo indietro per fare i dieci avanti, come ho detto alla presentazione. La giuria ha preso posto, la novità di quest'anno si ritorna alla giuria tecnico-popolare che valuterà le compagnie teatrali amatoriali che abbiamo selezionato con l'aiuto della compagnia di Casamarciano che ci dà un grande aiuto a valorizzare il teatro nel nostro territorio e alla fita Campania con il presidente della giuria Pasquale Manfredi che ovviamente ringrazio entrambi, anche il dottore Cavaccini, regista della compagnia che ci hanno dato una grande mano. Poi avremo nel fine settimana anche i grandi nomi del teatro, abbiamo Francesco Di Leva, avremo Rosalia Porcaro e poi avremo domenica 10 la premiazione con Katia Ricciarelli e poi a seguire il concerto con la band di Pino Daniele. E la presentatrice è sempre... Come sempre Odile Napolitano ci aiuterà a condurre tutto il nostro viaggio culturale, da qualche anno è con noi e come sempre insomma viaggiamo insieme. Quindi ci sarà grande afforzamento... C'è area di festa, di grande convivialità, la nostra comunità sta rispondendo benissimo a questo evento ed è esattamente il primo obiettivo che si pone a questo evento, la cultura ma soprattutto l'unione del nostro territorio.